Paglantinelli Paglantinelli Quattro subito Paglantinelli 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 Grazie Grazie. 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 Grazie a tutti voi per essere stati più erosi. Speriamo che sia stato un soggiorno positivo, nonostante magari i risultati sportivi, che sia stato bello, che è rimasto sempre dietro in quinte. E poi un ringraziamento a voi che siete stati così numerosi e che avete assistito in rigoroso silenzio a tutte le gare che si sono svolte in questo bellissimo fine settimana. Grazie a tutti voi, poi ritorno a casa. Grazie. Allora, ritorno a tutti i numeri. L'estazione.